www.morizopoli.it oggi 27 giugno ricorre la giornata mondiale delle micro, piccole e medie imprese che rappresenta il 90% delle imprese totali. L'istituzione delle Nazioni Unite del 6 aprile 2017 riconosce il ruolo fondamentale svolto dalle piccole e medie imprese al raggiungimento degli impegni dell'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. In Italia sono operativi per quanto riguarda le piccole e medie imprese incentivi che vanno dal Nuova Salatini, che è operativa e funziona benissimo, dal punto di vista del fondo di impresa femminile, dal punto di vista del fondo di garanzia per le PMI, io resto al sud, la transizione 4.0, impresa ON, formazione 4.0, fondo piccole e medie imprese creative, vi porto qui in calcio l'articolo, io sono Maurizio Poli, educatore e consulente finanziario, per chi vuole approfondire le piccole imprese per i propri progetti di sviluppo e sostenibilità, il mio numero di telefono 349 571 4319 m.poli-solution.it Buona giornata delle medie e piccole imprese italiane, alla presto!